ciao a tutti e bentornati in un nuovo vuota etina day cosa mangiano un giorno durante la mia dieta quindi oggi faremo insieme dei piatti completi adatti ad una dieta equilibrata e quindi sani e partiamo dalla colazione ho deciso di preparare questo tiramisù fatto con l'avena è una sorta di porridge freddo ed è buonissimo vi consiglio comunque di provarlo anche se non andate matti per la vista mettere all'interno di un contenitore ermetico 80 grammi di avena un cucchiaino se ce l'avete di semi di chia altrimenti potete anche ometterli due cucchiaini di cacao amaro due cucchiaini di dolcificante potete utilizzare la stevia o altro dolcificante una tazzina di caffè 200 ml di latte latte di soia latte scremato latte di avena quello che preferite anche acqua se volete lo lasciate tutta la notte nel frigo e il giorno dopo la mattina seguente mettete un po di yogurt al caffè al di sopra per rendere tutto molto più cremoso qualche fettina di banana o in alternativa altra frutta è giusto un pochettino di burro di arachidi per dare ancora di più il tocco goloso e vi assicuro vi piacerà tantissimo è una colazione molto ricca e vi aiuterà comunque a tenere lo stomaco chiuso fino all'ora di pranzo ho preparato un piatto unico molto veloce e semplice ho fatto due uova che ho cotto in padella se non vi piacciono le uova così potete preparare una frittata e in un'altra pentola sono andata a cuoce gli spinaci che ho semplicemente lessato che ho condito con un pizzico di sale un po di olio e due pezzettini di focaccia ovviamente potete mangiare la focaccia durante la vostra dieta e non è assolutamente abolita l'importante che non esageriate e soprattutto magari la mettete solamente una volta a settimana durante il vostro menù passiamo allo snack ho deciso di farmi un frullato fatto con banale e avocado anche questo semplicissimo da preparare mettete mezza banana nel frullatore è un avocado se lo volete più corposo altrimenti basterà mezzo avocado un cucchiaino di cacao amaro se volete potete aggiungere un dolcificante io utilizzo lo sciroppo di agave giusto giusto un cucchiaino ma non è indispensabile perché la banana è già dolce un goccio di latte andate a piacere in base a come lo volete se lo volete più denso se lo volete più liquido potete anche aggiungerlo in un secondo momento per rendere il tutto ancora più goloso vado a mettere il frullato nel freezer così solidifica e nel frattempo vado a sciogliere un po di cioccolato fondente con un cucchiaino di olio di cocco da mettere al di sopra che renderà il tutto ancora più goloso ovviamente una volta che si è solidificato vado a metterci sopra al cioccolato qualche scaglietta di cocco e il mio snack è pronto per cena ho preparato una vellutata di broccoli e patate anche questo davvero davvero semplice ho semplicemente fatto cuocere i broccoli insieme alle patate con un po di acqua fino a coprire ho aggiunto poi in un secondo momento giusto un pizzico di dado granulare per dare un po di sapore in alternativa potete metterci per esempio un pezzo di cipolla delle carote delle verdurine per creare un po il sapore del brodo e quando sia le patate che broccoli saranno pronti vado a frullare il tutto e vado a servire questa vellutata con un goccio di panna queste panna di soia e potete anche non metterla un goccio di olio e poi potete mangiare il tutto magari con qualche crostino se vi va anche se in realtà io la mangio così perché all'interno ci sono già le patate che vanno già a sostituire diciamo i carboidrati allora ragazzi e ragazzi questo è stato il mio what I eat in a day di oggi spero tanto che questo video vi sia piaciuto come sempre vi abbia dato qualche idea io vi mando un grosso bacio ci vediamo presto in un prossimo video ciao